Clara! No! Badate signore, è scarico! Non c'è da fidarsi lo stesso! E poi ve lo rompo sulla testa! Perché signore? Perché questa casa è mia! E voi non so chi siete e cosa volete! Se per questo rispondo subito, non voglio niente. E se mi trovo in casa vostra, ebbene si tratta di un incidente, di uno stupido incidente che mi ha fatto sbagliare finestra. E come si fa quando si sbaglia a porta? Si chiede scusa e si va via. Così faccio. Signore e signorina, scusatemi. Un momento! Sarebbe troppo comodo uscirsene dopo avermi raccontato una storiella così inverosimile. Avanti, per chi mi prendete? Fuori la verità! Ve l'ho detta!